Ciao a tutti gli amici del Cineteatro San Giuseppe di Brugherio, ritorniamo con i nostri consigli sui film da vedere a casa in queste settimane e parliamo del film Era mio padre che sarà su Rai Movie martedì 23 giugno in prima serata. È il secondo film di Sam Mendes, regista che ha avuto un grandissimo successo con il suo esordio American Beauty, regista di cui quest'anno abbiamo visto 1917, regista inglese, spesso però molto amato, soprattutto a Hollywood. Ecco, questo suo secondo film è un film in cui si cambia genere rispetto all'opera prima, American Beauty, appunto, perché questo è un gangster, un gangster dell'anima però, un film che parla soprattutto di rapporti familiari. Il protagonista è Tom Hanks nei panni di un sicario di un famoso boss, Paul Newman. Che per lui è una sorta di figura paterna, anche se non ha legami di sangue. Il vero figlio di Paul Newman, invece, Daniel Craig, figura piuttosto, come dire, altalenante da un punto di vista psicologico all'interno di questo film e il suo personaggio, il vero figlio, appunto, del personaggio di Tom Hanks vedrà Daniel Craig uccidere un uomo e da lì si innesteranno una serie di dinamiche particolarmente complesse in questo film decisamente coinvolgente e anticonvenzionale. Un film girato con grande classe da Sam Mendes, ma soprattutto un film che appunto ragiona anche per rapporti generazionali in un'epoca importante. Sono gli anni anche legati al proibizionismo, gli anni tra l'altro in cui il cinema gangster americano si era diffuso tantissimo all'inizio degli anni 30, quindi c'è anche un po' un ritorno, un omaggio, insomma, a quel tipo di cinema del passato. Ma soprattutto questo è un film che colpisce per il gran lavoro del cast. Appunto ci sono tanti nomi noti, c'è anche Jude Law, ad esempio, che non avevamo ancora citato, però davvero. Soprattutto forse in questo grande cast con Daniel Craig e Tom Hanks è la figura di Paul Newman, quella che colpisce maggiormente, e ancora Newman appunto anche ormai piuttosto anziano, dimostra un grandissimo fascino ancora anche dal punto di vista estetico e una grande intensità recitativa. Quindi vi ricordo ancora l'appuntamento il 23 giugno su Rai Movie con il film Era mio padre di Sam Mendes. Grazie a tutti, buona visione, ci riaggiorniamo con i nostri prossimi appuntamenti. Un abbraccio.